E' scritta a parlare il senatore Magliocchietti, ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il Governo in queste ultime ore ha perso due occasioni per dare dignità alla propria azione e per legittimare della funzione peculiare il Parlamento italiano. Due occasioni fornite da due provvedimenti reiterati dall'inizio di quest'anno e che riguardano settori importantissimi della vita del nostro Paese, gli interventi a sostegno dell'occupazione e il problema principe, l'emergenza eccezionale dell'occupazione in Italia. Bisognava coinvolgere il Parlamento, onorevole Ministro, attorno a queste due emergenze, emergenze scaturite dallo stesso programma del Governo Amato e successivamente dal programma dell'attuale Governo Ciampi. Aver posto la questione di fiducia ha un significato profondo che è quello di chiedere alle forze politiche che rappresentano la volontà del popolo italiano un giudizio sul atteggiamento che il Governo ha assunto in questi mesi in ordine alla situazione economica e soprattutto in ordine alla situazione occupazionale. Quindi a noi si chiede una valutazione, un giudizio. E' un giudizio, io lo voglio esprimere, onorevole Ministro del Lavoro, facendovi alcune osservazioni del noto economista Martino, figlio del più famoso Gaetano Martino, allievo di Friedman, a quale proprio ieri l'indipendente ha posto alcune domande sulla situazione generale del Paese. E ha chiesto l'indipendente al Professor Martino di esprimere alcuni giudizi e li ha espressi in maniera veramente preoccupante ed incisiva. E noi facciamo nostro questo giudizio così lapidario, Cominciando appunto dalla pagella del contribuente, il Professor Martino si è espresso testualmente in questi termini. Il contribuente italiano merita dieci in pazienza e zero in senso civico, perché dovrebbe rivoltarsi contro un sistema iniquo. Darei, continua il Professor Martino, otto al risparmiatore che manda avanti la baracca e sette alla piccola media impresa che fa altrettanto. Cinque alla grande industria, ma dice il Professor Martino, non mi parli del Governo, non arriva a quattro. E pensare, afferma il Professor Martino, che sono un ottimista, ma è bene dirlo chiaro, il nostro Paese ha davanti l'argentinizzazione che nel 30 spinse l'Argentina, appunto, che era uno dei Paesi potenzialmente ricchi, a scivolare negli anni Sessanta verso il Terzo Mondo. Se paradossalmente, continua il Professor Martino, lo Stato dicesse che non ha un milione e settecento mila miliardi e non li paga, sarebbe una catastrofe finanziaria, sulle famiglie farebbe addirittura l'effetto di una guerra, ma una guerra di cartapesta, perché resterebbero in piedi gli impianti produttivi e intatto il mondo del lavoro. Si potrebbe ricostruire. Invece, l'argentinizzazione dell'Italia, strisciante, che stiamo vivendo, si protrarrà in una lunga agonia. Fra tre anni avremo due milioni e mezzo di miliardi di debito, poi cinque milioni di miliardi e via peggiorando fino alla redderazione. L'esplosione finale ci sarà lo stesso, ma nel frattempo saranno state dissipate le residue e risorse. È un giudizio molto grave che viene da uno dei maggiori competenti in materia di economia. Si dirà che è vero che le difficoltà economiche ormai affliggono tutto il mondo industrializzato e sono da attribuire soprattutto alle modifiche che i meccanismi economici internazionali hanno subito soprattutto negli anni settanta e negli anni ottanta. Però è anche vero, e lo dobbiamo dire senza nasconderci ipocritamente, che la crisi sociale, economica ed occupazionale che tormenta l'Italia, non è soltanto riferibile a questa congiuntura di carattere internazionale. Perché noi riteniamo, e l'abbiamo sempre detto, la Lega sta inventando adesso questa caotica opposizione, ma il Movimento Sociale Italiano, soprattutto in questi ultimi 25-30 anni, ha avvertito i vari governi che si sono succeduti che in mancanza di specifiche mirate programmazioni economiche ed industriali, noi saremo arrivati a questa situazione spaventosa, terrificante. L'assistenzialismo diffuso, onorevole Ministro, e la corruzione, non dimentichiamo che lo stesso neogovernatore della Banca d'Italia ha affermato recentemente che la corruttela diffusa in Italia ha addirittura fatto crollare un principio fondamentale che regola il libero mercato, la concorrenza fra le imprese. Quindi una corruzione dilagante che ha caratterizzato le scelte dei governi allo scopo di ampliare la base del consenso attraverso l'utilizzazione di immense risorse finanziarie sottratta allo sviluppo tecnologico, alla ricerca scientifica e alla base produttiva del nostro debole sistema industriale a punto tale che non possiamo nemmeno augurarci una ripresa dell'economia internazionale perché noi non saremmo nella condizione di poter competere con i Paesi industrializzati a tecnologia avanzatissima. Nel recente rapporto del CNEL sulla situazione occupazionale si legge e leggo testualmente Onorevole Ministro in questo senso l'economia italiana si trova in una situazione di svantaggio rispetto ad altri Paesi europei non avendo saputo suffruire delle favorevoli condizioni degli anni Ottanta per avviare i necessari processi di aggiustamento e correzione in tema di finanza pubblica di declino della competitività internazionale di riordine del sistema fiscale di riequilibrio fra settori protetti ed esposti e fra aree del Paese aree arretrate e aree a forte declino industriale. Noi stiamo subendo processi di deindustrializzazione addirittura in quelle aree e faccio riferimento al nord Italia che per un secolo hanno avuto un graduale e in taluni momenti scelere sviluppo. Intanto continua a crescere nonostante le manovrine le stangatine le rotture di ossa che pur stanno determinando taluni provvedimenti del Governo continua a crescere a dismisura il debito pubblico che è ormai incontrollabile corre ormai velocemente verso i due milioni di miliardi. Si sono finora dimostrate illusorie tutte le previsioni relative al prodotto interno lordo a dimostrazione delle gravi difficoltà che permangono nella nostra economia nonostante l'enfatizzazione di quella stessa stampa che ormai è infeudata ai grandi potentate alle grandi lobby economiche e finanziarie che sono pure esse e soprattutto loro responsabili di questa situazione veramente orripilante in cui versa l'economia italiana. L'aumento delle esportazioni relativo aumento delle esportazioni lungi dall'essere considerato il successo del cosiddetto made in Italy è la conseguenza della svalutazione della nostra moneta che ha reso più competitivo i nostri prodotti all'estero non tanto per la loro qualità ma soprattutto perché è favorito dal sistema dei campi per effetto della svalutazione. Le retribuzioni onorevole ministro sono bloccate al di sotto del tasso programmato di inflazione che non è quello reale mentre il settore industriale sempre secondo le valutazioni del CNEL e riporto testualmente nonostante i benefici indotti dal blocco dei salari ha subito il calo della domanda interna in un momento in cui era necessario prospettare di innescare nuovi modelli di sviluppo industriale il crollo dei consumi interessa importanti prodotti del nostro apparato industriale ne cito qualcuno di settori importantissimi prodotti importanti meno il 10,4% per l'abbigliamento meno 7,5% per gli alimentari meno 27,5% per gli automobili meno 10% per le calzature meno 25% per i mobili meno 10% per gli elettrodomestici addirittura i libri non si acquistano più meno 11,5% meno 23% per le televisioni e gli i-fi meno 30% per il turismo una struttura importantissima e vedremo dopo quest'estate i risultati gli effetti veramente devastanti di questo tipo di politica i molteplici provvedimenti governativi che hanno inverto un mortale colpo allo Stato sociale che era il nostro fiore all'occhiello appunto che già nel 1926 quando c'era il bieco tiranno in Italia il bureau internazionale d'utraval definiva la legislazione sociale italiana la più avanzata del mondo sono stati necessari 50 anni di democrazia per fare scempio del nostro Stato sociale e della nostra legislazione i molteplici provvedimenti del governo hanno temporaneamente fermato certo il processo inflazionistico per i motivi espressi in premessa per la forte caduta della domanda interna ma noi siamo convinti che questo processo continuerà a correre nei prossimi mesi in quanto continuano a sussistere gli elevati costi strutturali gli sperperi le diseconomie mentre avanza minacciosamente la recessione che rischia di diventare depressione questi elementi unitamente alla ristrutturazione in atto nei servizi destinabili alla vendita e al freno posto all'amministrazione pubblica dai vincoli di bilancio hanno già determinato negli ultimi mesi una caduta occupazionale di circa 200.000 unità con conseguente aumento del tasso di disoccupazione ed importanti interventi degli ammortizzatori sociali che entrano a rinventare il debito pubblico quindi la spesa pubblica il ricorso alla cassa integrazione nel settore dell'industria ha interessato 404.000 lavoratori 100.000 in più rispetto alla fine di dicembre 1992 la situazione pertanto noi riteniamo che sia socialmente esplosiva in quanto sono a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro sia nel settore privato che nel settore pubblico il provvedimento che noi volevamo discutere per emendarlo regando interventi a sostegno dell'occupazione appalesa comunque tutta la sua insufficienza e reitra in sostanza la maggior parte delle disposizioni contenute nei decreti 1 31 26 e 57 questa dimostrazione di quanto sia confusa anche la decretazione di urgenza dei governi perché questa è la dimostrazione più chiara reiterare nell'arco di sette mesi per quattro volte un decreto per provvedimenti urgenti è la dimostrazione che il governo non sa dove e quale direzione intenda prendere in ordine a questa problematica così grave così importante così delicata il decreto legge 148 ci è appasso subito come una miscellania di vecchie intenzioni peraltro già esperimentati senza esiti ragguardevoli nel corso di questi ultimi anni le stesse misure per l'accelerazione degli investimenti e di sostegno dell'occupazione reiterate dal governo sono prevalentemente riferibili a disorganiche iniziative che hanno già avuto una copertura nei bilanci approvati rimasti inattuati sia per le cause e per gli effetti di tangentopoli sia per la mancanza di interventi mirati a ridare slancio all'economia e a ricreare i posti di lavoro perduti nella fase ciclica lo stesso tanto enfatizzato fondo per l'occupazione e la previsione di interventi posto a carico del fondo medesimo nei limiti di una complessiva spesa di 1350 miliardi per il triennio 1993-95 li abbiamo subito noi del movimento sociale italiano ritenuti insufficienti a determinare un'inversione di tendenza nelle zone in ritardo di sviluppo e nelle zone di decrino industriale dove il tasso di disoccupazione è superiore alla media nazionale cari amici del nord considerate nel sud quanto sia stata devastante questa politica del governo ma anche delle forze economiche in quel sud dove la disoccupazione spesso supera il 30 40 50 per cento rispetto alla popolazione attiva residente quindi parimente insufficiente rispetto alla grave situazione descritta in premessa ci sembra il recupero all'attività produttiva di circa 23 mila lavoratori nel triennio 93-95 mediante consistenti incentivi ai datori di lavoro non sappiamo ancora quale titolo e per quali meriti mentre per quanto concerne l'ipotizzati programmi di reindustrializzazione e gli interventi per la creazione di nuove iniziative produttive di riconversione dell'apparato industriale si appalesano di non facile realizzazione gli accordi di programma stante la cronica conflittualità tra il ministero dell'industria ministero del lavoro ed il ministero del tesoro per quanto attiene agli interventi previsti a sostegno dell'occupazione si evidenzia la loro disorganicità in quanto sono avulsi da una serie ed efficace programmazione basterebbe considerare e per brevità di tempo cito soltanto questo esempio che la legge 183 dell'89 in merda gli interventi nell'ambito degli ecosistemi fluviali ha finora introdotto pochissime modifiche perché le competenze sono rimaste quasi tutte le regioni le quali non hanno ancora provveduto ad una pianificazione dei bacini idrografici mentre si continua a gestire come in passato una legislazione che doveva essere nettamente innovatrice in quanto le regioni continuano la loro programmazione con ritardi inammissibili e con l'attuazione di interventi estemporanei e costosi in quanto agli interventi statali per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo è tutto dire i previsti controlli ci sembrano assolutamente inadeguati considerati risultati negativi delle precedenti esperienze il decreto legge 148 ricalca perciò petisseguamente una legislazione che ha il grave difetto di essere articolata in numerosi provvedimenti sovrapposti e contraddittori la stessa sanatoria a favore dei precari è affrontata con una buona dose di superficialità in quanto mentre da un lato si vuole assicurare la stabilità del posto di lavoro a chi è stato assunto a tempo determinato mediante procedure sospette con la privatizzazione del pubblico impiego si tende e questo è paradossale invece a ridurre drasticamente gli occupati nella pubblica amministrazione tra l'altro si affronta criticamente un fenomeno che ha consentito e dobbiamo avere il coraggio di affermarlo soprattutto in questi ultimi dieci anni di assumere senza concorso parlo soprattutto negli enti locali nei consorzi nelle urlo il 60-70% dei dipendenti pubblici questo perverso sistema ha cancellato per anni le attese e le aspettative di migliaia di giovani diplomati e laureati che hanno il solo torto di non avere protettori e padrini e che sono condannati a restare disoccupati a vita perché proprio per la privatizzazione del pubblico impiego per gli organici infarciti di precari e per il blocco dei concorsi pubblici è certo che per molti anni non verranno attuate assunzioni per converso i cosiddetti precari che dovevano essere utilizzati retribuiti per un tempo determinato con una serie di proroghe sono stati mantenuti in servizio istituendo in questo modo una nuova professione quella dei precari a vita un modo perverso sofisticato e ricattatorio per tenere sotto controllo per un tempo indefinito migliaia di lavoratori è giunto ed è giusto il momento di dare definitive risposte alle speranze alle attese alle aspettative fomentate per scopi clientelari sembra invece onorevole ministro che molto ha invadizzato in queste ultime ore il cosiddetto accordo sul costo del lavoro a noi sembra di capire che si intende perpetuare questa precarietà mediante l'introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto lavoro interinale che è uno strano eufemismo per indicare i lavoratori in affitto gestito da aziende private con il sistema tristemente noto in agricoltura per esempio con il nome di caporalato sono facilmente senatore magliocchetti per sua comodità mi sto abbiando che il termine è già giunto per il suo gruppo benissimo mi consenta presidente perché su questi argomenti il senatore onorevole ministro del lavoro giugno sa come noi membri della commissione del lavoro per mesi ci siamo sacrificati per venire in quest'aula preparati a demandare un provvedimento così carente e questo non ci è stato consentito da un governo oligarchico che ormai tiene in ostaggio un Parlamento che a differenza di certi giudizi invondati vorrebbe lavorare seriamente e non ci è invece consentito dal governo come il governo ha dimostrato in questi ultimi due giorni no non direi proprio non direi proprio ah quelli approvati in commissione ma nella commissione c'è una maggioranza e c'è anche una minoranza e non credo che gli emendamenti della minoranza siano stati recepiti dalla commissione allora allora io dico onorevole ministro che in ordine a questo tanto decantato lavoro interinale noi ci immaginiamo già quali effetti produrrà specie nelle regioni dominate dalla malavita organizzata questa nuova regolamentazione del lavoro precario introdotta dall'accordo sul costo del lavoro accordo altri pochi minuti le chiedo scusa e la prego signor presidente perché ormai ho una traccia ben precisa e quindi mi avvio certamente alla conclusione di complimenti accordo che ha suscitato un coro di consensi per i suoi contenuti taumaturgici tanto che il suo immediato effetto placebo ha spinto la banca d'italia a ridurre immediatamente di un ulteriore punto il costo del danale l'accordo sul costo del lavoro è stato da qualcuno e credo sia stato il direttore generale della convindustria è tutto dire è stato così definito dal dottor Cipolletta apro le virgolette una pagina bianca su cui dovrà essere scritto ancora tutto come dire che alla stregua della gomma americana l'accordo stesso potrà essere teso in ogni direzione si coglie allora un'eccessiva enfasi sul cosiddetto patto sociale che invece si evidenzia come un patto scelerato tra governo convindustria e sindacati di regime per mantenere in uno stato di sudditanza il mondo del lavoro infatti ritenuto ormai scontato il concetto di salario variabile dipendente ed il conseguente superamento delle indicizzazioni scaturite dall'accordo del 31 luglio dell'anno scorso atteso che è da tempo acquisito nella nostra legislazione la contrattazione nazionale collettiva ed aziendale o decentrata per quanto riguarda il pubblico impiego onorevole ministro del lavoro la vera novità rivoluzionaria nel senso buono dell'espressione che ci si aspettava dal governo dei tecnici era quella di porre fine dopo il crollo della partitocrazia di porre fino alla sindacatocrazia che ha determinato guasti più devastanti rispetto a quelli imposti alla nazione italiana dal regime dei partiti invece come ha affermato il ministro Giugni l'elemento positivo che è stato posto in luce dall'accordo è che proprio nel momento in cui assistiamo alla frantumazione dei partiti si afferma il potere dei sindacati unitari CGL CISL e UIL un potere molto forte onorevole ministro tanto che se in un rapporto di corruzione è chiamato in causa un politico signor presidente meglio se un parlamentare da un imprenditore il conseguente avviso di garanzia si trasforma in una condanna definitiva mentre se gli imprenditori chiamano in causa un noto sindacalista questi riceve la solidarietà del presidente del consiglio e del 95% dell'assemblea dei quadri dirigenti della sua organizzazione sindacale così come è avvenuto trova una così ulteriore conferma alle tesi del movimento sociale italiano ribadite nel corso del dibattito sulla legge elettorale ossia la necessità di trasformare uno dei rami del Parlamento in camera rappresentativa degli interessi organici del mondo del lavoro e della produzione proprio per porre fine alla conflittualità permanente su cui si fonde e trova motivo di essere la sindacatocrazia che con l'accordo su costo del lavoro vuole porre un'ipoteca sulle rappresentanze sindacali unitarie con l'assurda pretesa di rappresentare per le detenità i lavoratori che da tempo hanno rinunciato ad ogni anacronistica intermediazione altre motivazioni noi non ravvediamo perché come organo di mera consultazione svolge già la sua meritoria funzione il CNEL la contrattazione aziendale e la necessità di diffondere l'anzionariato popolare rendono attualissimo il fondamentale principio programmatico del movimento sociale italiano contenuto nell'articolo 46 della Costituzione finalizzato alla partecipazione responsabile dei lavoratori alla gestione delle aziende e dalla ripartizione degli utili perché solamente con la congestione si potrà superare il conflitto di classe come residuo delle ideologie liberiste e collettiviste consentendo all'Italia di entrare in Europa basta vedere la Francia la Germania dove sono state attuate da diversi decenni istituti di partecipazione sociale che hanno notevolmente contribuito a potenziare e modernizzare l'economia di quegli Stati la ringrazio e le chiedo scusa la Presidente Senatore Pontone io vedevo il suo sguardo salire al cielo però devo dire che il Senatore Magliocchetti ha superato di 5 minuti i tempi no questo perché la Presidenza deve essere equanime nei confronti di tutti Senatore Perini può prendere la parola del senatore di Suome che scusa di Suome Lontano la Commissione di Suome un'�mmeno di suome prestino e